Sergio! Figa! Ok, figa, no? Sergio! 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 Pusable! 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 Ok? Ok? Questa è la scena! La proviamo? Sergio! Qui è questo? Chi è questo? Sono un ragazzo. No, stai un po' in silenzio. Lui ha cambiato la mia vita. Io non sono qui solo. Lui ha cambiato la mia vita. Sergio. Io sono qui anche grazie a lui. Io non sono qui. Il ha cambiato la mia vita. E' un sergiore. Il ha cambiato la mia vita e non sono di sé. Io sono con teandrani. Io non posso rimanere con te. Non posso rimanere con te. Io non posso rimanere con te. Io posso rimanere con te. Tu hai giocato? Il miagra ha facuto! Ci sono più piccoli. Non posso rimanere con te. Ok, e voi prende il gavailmo nel voracolo, e voi mi saldiamo giù tutto in questa casa. Ok. Tu hai... C'è che se vuoi dire. Ora c'è... C'è il giovane. C'è il giovane. C'è il giovane. C'è il giovane. Non c'è bisogno. Hai capito? Proviamola così. Tu, tu, c'è la tua vita, arriva... Cioè tu, comunque sei... Cioè, comunque non è facile neanche per te quello che volevo dire. Che comunque non è facile neanche per te. La proviamo? Dai, proviamo. Ok. Ok. Il giovane è dietro da lui. E il giovane è dietro da lui. Ok. 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 Proviamo.